Devo dire che sono molto contento di questo incontro, contento perché intanto due assessori della provincia sono qua, non è casuale voglio dire, anche se poi ognuno di noi esprime i propri punti di vista, però c'è al fondo un mandato per dire, intanto queste sale sono della provincia, sono state concesse grazie anche alla provincia. Ma mi fa piacere per due ragioni, una è che ci sia l'assessore della cultura perché credo che fondamentalmente questo sia un fatto culturale, l'altro è che nonostante le evidenti difficoltà che ci sono in un consiglio, in questo caso il consiglio provinciale, ma ci sono anche dei consigli provinciali, c'è Schiaffino della Margherita, ma altri ho visto che sono transitati da queste parti e le ovvie distinzioni che ci sono all'interno di una giunta, variamente colorata, però la cosa importante, io credo che in un ente locale, lo Stato in tutte le sue forme e differenziazione sia quello di informare, dopodiché ognuno può decidere, viviamo un momento di disinformazione, forse più di prima, con degli attacchi evidenti, diffusi, che noi subiamo ma ai quali dovremo reagire in qualche maniera e non tacere di fronte a tutto questo. Questo è un momento, un momento importante, poi ognuno di noi evidentemente, ma questo è ovvio, ma è ovvio per la maggior parte di quelli che sono, per tutti anzi, però dobbiamo farlo capire, dobbiamo essere chiari, compito delle istituzioni, degli enti locali in questo caso è quello di dare l'opportunità di capire, di informarsi per poter poi decidere. Credo che sia questo il nostro compito, aprire le porte alle differenze, cercare di capirle e eventualmente di discuterle, di non contrastarle a priori senza capire, senza sapere perché. Credo che la provincia tutto questo lo stia facendo e credo che lo debba fare, me lo auguro, anche nei prossimi anni. Grazie per l'occasione.